E delle lobby ritorniamo dopo perché è una battaglia che Carola ha indicato nel suo programma elettorale. Ma intanto, tornando a Roberto, volevo chiederti una cosa. Salvini, oggi cito gli assenti, ma così è, prima di avere Roberto Vannacci in lista, ha detto, se dovesse accettare la candidatura della Lega, ha detto questa cosa. Quanto mi piacerebbe un confronto sul futuro dell'Italia e dell'Europa tra Ilaria Salis e il generale Roberto Vannacci? A noi no. Ti piacerebbe?